ciao mi chiamo paola faccio la cuoca da 40 anni e non la chef lavoro con mia sorella nel ristorante di famiglia che è stato fondato nel 1934 dai nonni materni e mi piace quello che faccio ho cominciato da ragazza perché mia mamma me l'ha chiesto prima di mia mamma c'era anche mia nonna che cucinava e quindi è sempre stata una cucina al femminile è stata una cucina al femminile anche di famiglia perché adesso lavoro ancora con mia sorella e cerchiamo sempre se possiamo di mantenere un'armonia e di trasmetterla con quello che facciamo con un lavoro quotidiano io credo che la cosa che ancora oggi mi emozione di più siano lo sfregolio delle casseruole quando fai la tostatura di qualcosa e i vapori perché mi ricordano tanto le fucine o comunque dei luoghi magici. La circolarità per me è molto importante perché significa coinvolgere non solo in quello che faccio io ma tante realtà in un'unica volontà che è quella di fare bene per un territorio e cercare di farlo crescere con quello che abbiamo a disposizione. Ho sempre creduto in questo territorio e questo territorio fa parte di me ho ricevuto tanto da questa terra da questa terroir e quindi mi sono sempre sentita un po' in dovere di fare qualcosa e ho cominciato con spiegare ai bambini cosa potesse essere il mondo della cucina e di quante cose fosse formato quindi odori profumi sensazioni tattili e far diventare per i più piccoli un gioco e per i più grandi con un'esperienza o comunque un inizio una curiosità una spinta a interessarsi di più di quello che stava intorno a loro.